Ma che account è questo co? C'ha pure il verificato, 1700 follower, ma che è sta roba? Ma è strano Regà però senza chiesa che è sto sbocco? Dai, ma me l'ho fatto già la squadra Mi l'ho fatta già la squadra intorno a chiesa io, ma come faccio mo? Dai regà, niente Federico Chiesa no però eh SBC lo fanno tutti però 14 13 12 11 10 9 8 7 6 E tozza E tozza Sono usciti E tozza Ma è un pippone Oddio Perché sono 89? Vabbè lo faccio eh però Dai Che chiede eh? 83 83 Lo fanno tutti regà questo Tutti lo fanno Tutti Tutti lo fanno Zio Ma anche un po' Vabbè bello è bello Però lo potevano mettere nei pack Sfida Sfida Tots Community Pacchetto giocatori Euro Premium Maxi E la Madonna E la Madonna Divisa Playstation Peter Schmeichel Peter Schmeichel Gli hanno aumentato le abilità Gli hanno aumentato le abilità E la Madonna E va bene Allora fai tutto tu Allora E la Chi è questo? È il momento ragazzi È il momento di provare un po' di Tots Allora ho completato Chiesa Fu Champions Sì fu Chiesa fu Champions Chiesa Tots E Abbiamo comprato un po' di Tots qui Valverde e Buendia Vediamo Vediamo un po' va Vediamo un po' Eccola qua Eccolo qua il nostro avversario Tutti i Tots contro tutti i oro Grande Grande Fa pure le skill fa Ma io gli facciamo subito Passare la voglia De fare le skill A sto campione Tutta Bella però per Chiesa Vai Chiesa Bruno base Bruno base Bruno base No vabbè Vai 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 Segni Grazie Gentilissimo Perè Gentilissimo Vorrei far segnare i Tots nuovi Però per carità Va bene così Mamma mia Federico Valverde Bravissimo Vai 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 Federico Vai Federico Vai Federico 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 Valverde Che gol Che gol Ma lei è un pazzo Oddio Ha trollato Ha trollato Vabbè ha trollato Ha trollato Ha trollato Va bene 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 Bello 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 Devo dire Federico Ne sa Federico ha fatto un golletto Niente male Gli hanno messo le 4 di skill Per quello è interessante Ah Ha sbloccato chiesa pure lui Chiesa versus chiesa Questa è la battaglia che verrà ricordata negli annali Lui gli ha messo predatore Io gli ho messo cannoniere Fisso Ho sbagliato Ossidientese Il suo è fenomenale Ronaldo The wish Perché non sono uscito Trollato Ronaldo The wish Ci pensa lui No chiesa versus chiesa E' più veloce chiesa con la palla Com'è possibile Bel gol Devo dire Bel gol Bel gol Difensore davanti Bel gol Bel gol Bello Federico Chi è Sa La riapre Siamo ancora vivi Questo non è per niente forte Se magari finisce di farmi gol assurdi Possiamo anche vincerla Forse eh Forse Dico forse Bruno 2 a 2 Rimette le cose in pari Ha spostato il portiere Dobbiamo ricordarci che sposta il portiere questo Huntelar Sì 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 Ronaldo ce l'ha fatta una volta Ma pensa che Va bene Tutto regolare arbitro Si preoccupi No sì Preso gol da Huntelar Ho preso Sono riuscito A prendere gol Da Huntelar No raga Non ci voglio credere Io non perdo con questo Non ci perdo Con questo Siamo calmi Dobbiamo stare tutti Molto molto calmi Bellissima Calma 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 Che è lunga È lunga Calma Federico Federico che gol Che gol Che gol di Federico Chiesa Con il mancino sotto al set Siamo calma calma Siamo calma calma Federico 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 per dentro Per Yohen E' pure un assist E' pure un assist Buendia Se l'ha andato Prova a metterla Per Cruyff E' un cross Perfetto E' un cross Telecomandato E' un cross Fantastico Da parte di Buendia Che mette pure lui Pure lui Tra l'assist Sì Con il giocatore incredibile GG Signori GG Sta partita Com'è andata 7 gol Difesa Imbarazzante Però 2 gol di Chiesa 4 gol di Cruyff Chiesa 2 gol 3 assist Buendia 2 assist Valverde 0 di tutto Pauro Federico Valverde Beh Beh Tomori base Quadrato base Lozano base Il 23 aprile Ci vuole coraggio Oppure ci vuole un'incredibile Intelligenza Per avere sempre lo script A favore ogni partita Mamma mia Federico Come resiste Che è Un mastiro lavico Cos'è Cos'è Ma tu c'hai De forza fisica Beh ragazzi Vai Cioè Possiamo Fare i sboroni Oppure possiamo essere oggettivi La squadra di questa E' abbastanza imbarazzante Ora io non so Perché me l'abbia Meshato contro Però Insomma Palla che dentro Chiesa La grande giocata Chiesa E' un palo clamoroso Non ci credo Non ci credo Non ci credo Buendia Prova a servire Federico Chiesa Dall'altra parte Federico Chiesa Il controllo magistrale Chiesa Chiesa Dentro l'aria Ma appoggia lì E' un gol facilissimo E' un gol magistrale E' un gol incredibile E' il gol che vale la vittoria Comunque Ragazzi Che dire Federico Chiesa E' veramente 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 Molto Molto Buono Buendia Pensavo fosse più forte Cioè Dalle statistiche Che c'ha Dovrebbe essere Gesù Cristo Non mi ha fatto Neanche un gol C'è un po' Un pipone Ho levato Ronaldinho Per mettere Buendia E provarlo Eppure estinto Chiesa Ne sa Ne sa Cinque partite Tre gol Cinque assist Ne sa parecchio Valverde Mi pare che pure Ne sa molto Valverde Pagato un milione e due Vediamo se ho fatto Una stoncata Mezzo che ci ho perso Però Diciamo Desti tre L'unico che mi ha Un po' deluso Anche se Probabilmente l'ho provato Per poche partite E' Buendia Buendia un po' Ma aspettavo di più Per il resto Chiesa soprattutto Che costa due lire E' un fenomeno